buongiorno ragazzi che noi ci siamo oggi non so tu cosa avere in programma ma io ho inserito il deadlift lo stacco da terra quindi se per caso avevi desiderio di fare i glutei questa è la giornata giusta quindi occhio al riscaldamento attenzione particolare alla seconda parte che usiamo il bilanciere per prepararci alla forza noi ci vediamo lì ciao ragazzi tutti mi parlano di forza forza ma aumentare la forza così come tante altre cose migliorarla non è semplice ecco perché io nella programmazione la inserisco sempre quindi occhio a questi power snatch e sono tecniche di sollevamento olimpioniche quindi stai molto attento perché col bilanciere non si scherza qualche esperto magari ci può dare qualche consiglio in più che in ascolto e se tu invece hai qualche domanda me la scrivi sotto occhio alla sequenza ci vediamo al workout ciao ragazzi questo workout di oggi è un four time attenzione un giro secco tre esercizi concludo nel minor tempo possibile deadlift double run stacco da terra doppio giro di corda e corsa attenzione alla sequenza che va a scalare occhio al deadlift se hai qualche domanda sull'esecuzione mi scrivi sotto noi ci vediamo direttamente domani mi raccomando allenati bene iscriviti al canale o al massimo lascia un mi piace ciao ciao